Eravate venuti per vedere chi vinceva. Ho vinto io. Ma dovete fare di più che assistere a una corsa. Dovete parteciparvi. Io voglio che paragoniate la fede al disputare una gara. È arduo. Richiede concentrazione e volontà. E forza di spirito. Voi provate esultanza. Quando il primo spezza il filo. Specialmente se avete scommesso su di lui. Ma quanto dura l'esultanza? Tornate a casa. Magari l'arrosto è bruciato. Magari non avete lavoro. E allora chi sono io per dire credete. Abbiate fede di fronte alle realtà della vita. Mi piacerebbe darvi qualcosa di più duraturo. Posso solo aditarvi la via. Non ho nessuna formula per vincere la corsa. Ognuno la corre a modo suo. Uomini o donne. Da dove viene allora la forza per arrivare in fondo alla corsa? Da dentro. Gesù disse Ecco Il regno di Dio è dentro di voi. Se con tutto il cuore in verità mi cercate voi mi trovate sempre. Se poi vi affiderete all'amore di Cristo è quello il modo di correre bene la corsa. Oh Ragazzi